Buongiorno Buongiorno eh Buongiorno Ehm Ma che cacco la che ti ho? Beh va easy Si è molto a camera Nooo Eh So a camera perchè abbiamo fatto che cosa? Eh Adesso La ci voleva Adesso No ma Ho fatto bene Ho fatto bene Ho fatto bene Ho fatto bene No però siamo a tenere senza aspettare Prima tu l'aveva anche qui No 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 Ti dici No 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 Mi chiedo No No Molta Poi Questo è mi è venuto in mente che hai assalato una biela di pizzioccheri badona guai, spero che non li abbiano già prenotati tutti ma c'è anche le lasagne, pure, certo, dove hai fatto mangiare i miei lasagne ma i pizzioccheri lì, mai i dravattellini, mai i dravattellini buoni, porco cane, se ho mangiato un terno, anche il coniglio di ieri io ho mangiato i buoni anche in barcovelo, mi mando le bravo anche lì che hai posto in casa tu, tamadotte, mi è piaciuta io ho l'era la donna, perché a me, sai che c'è come tu quando c'è solo eh, sei a due io, no, porco cane, ha un sapore, anche il coniglio ieri ma è buono, bello della terra no, anche mia mamma, a parte che l'ha a volte, però tante volte gli viene fuori un po' tipo buit non lo fa rosolare all'inizio, invece ieri è perfetto ma vedete, vai da poi c'è la vittà, non lo fa eh, 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 paduna, no, la morte è sua no, no, veramente, io era detto di Fide, dai, che finì no, io era te lì, per forza, io era detto di Fide ma mi va più a Fide che... ma vuoi schercare a più a te perché... mio figlio! ho chiesto ho chiesto ho chiesto ho chiesto cosa è che non fa senso e vederlo crudo ciao capo che gara mia dei capi almeno meno deserto la soglia capo di me stesso se fai le direte ma io ho detto a scherzo 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 ciao ciao vedi qua a scherzo detto che se ciò che se ciò ma scusa esatto il salto della cassetta lì vieni arrabbiata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti